Tutti ricordiamo bene i disagi dovuti alla chiusura del viadotto Puleto lungo la E45 per pericolo di crollo e proprio in quei giorni balzò all'attenzione delle cronache la viabilità alternativa in questo angolo di Italia centrale, la Tiberina Trebis, che nel tratto romagnolo è percorribile e ben manutenuta in quello a retino, invece no. Fu l'allora ministro Toninelli a visitare il cantiere ed assicurare che i lavori sarebbero partiti anche perché questa viabilità alternativa diventa strategica in caso di incidente che potrebbe bloccare la E45. A distanza di anni e qualche errore di valutazione, forse adesso questa strada potrebbe davvero vedere la luce. Il punto è che dalla convenzione firmata all'epoca con l'allora ministro Toninelli ad oggi è sorta una nuova convenzione perché la precedente ANAS in realtà non aveva portato a termine quanto scritto. La precedente convenzione conteneva importi per circa 2 milioni, 2 milioni e 200 mila euro che noi dicevamo fin dall'inizio che non erano sufficienti. Comunque da inizio anno il comune di Pio Santo Stefano è tornato alla carica, chiamiamo così, col ministero e devo dire che quella mano ce l'ha data anche il difensore civico regionale ed ha partorito una nuova convenzione. Questa nuova convenzione il Consiglio Comunale l'ha portata appunto al Consiglio, è stata approvata, è stata detto al Sindaco che questa la puoi firmare logicamente con due sostanziali modifiche. La prima è questa, che gli permessi a costruire il comune di Piove le ha già rilasciati, quindi ANAS quando vuole può cominciare. La seconda, che è fondamentale, una volta finiti i lavori che questa strada non può essere comunale, è giustamente che deve andare come minimo allo Stato, diceva uno, perché è l'unico che è in grado di poterla mantenere. Ma in questa convenzione c'è un'importante novità, che dai famosi 2 milioni e 2 cita la cifra secondo noi più opportuna, che sono 20 milioni di euro. Quindi due notizie non buone che il comune ha dovuto correggere e una notizia molto buona, che è quella sul potenzialità di spesa che c'è in questa strada. Quindi a questo punto noi, come ho detto più volte, mi aspetto da ANAS la fine delle parole scritte, ma l'inizio dei fatti.